Nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno, torna a casa, verso gli Stati Uniti, il quarto gruppo di studenti e ragazzi di Speedway, il quartiere di Indianapolis negli Stati Uniti in cui si trova il famoso circuito, ospitati a Varano-Meregari grazie alla generosità dell'ingegner Dallara e le capacità organizzative della figlia Angelica. A riparo dal caldo torrido all'interno dell'auditorium della Dallara Academy, si è tenuto l'incontro di saluto quindi dei ragazzi americani. Oltre a loro, in rigorosa maglietta grigia, nella sala erano presenti anche i giovani varanesi che sono stati a Speedway nelle scorse edizioni, loro invece avevano una maglietta bianca. Erano presenti anche i genitori che hanno accolto i ragazzi americani nel paese della Valceno e ovviamente i rappresentanti delle istituzioni di Speedway e del comune di Varano-Meregari, grandi protagonisti Angelica Dallara e ovviamente l'ingegner Giampaolo. Il momento di saluto è iniziato con gli scambi di doni tra i due comuni. Speedway ha regalato al sindaco di Varano Giuseppe Restiani la sciarpa della locale squadra di calcio, mentre l'amministrazione comunale di Varano ha donato un libro di ricetta italiano per continuare a ricordare il sapore della nostra terra, un libro sui castelli del Parmese per ricordare che nonostante l'America sia avanti in tante cose sulla storia non ci batte e ovviamente due punte di Parmigiano-Leggiano, preoccupante il nome con cui è stato chiamato da responsabile americano, Parmesan. Forti e sentiti ringraziamenti del responsabile della comitiva americana, l'ingegner Giampaolo, che c'era ed era mescolato tra i giovani in mezzo al pubblico. Queste le parole tradotte da una tradutrice di eccezione, la nipote dell'ingegner Dallara. Questo gemellaggio semplicemente non potrebbe succedere grazie alla generosità del Giampaolo Dallara e alle doti organizzative e leaderci di Angelica. Grazie a tutti i famigli che ci ha insegnato a cucinare, al prologo e a tutti coloro che hanno contribuito e partecipato a questo evento. È stata poi la volta dei doni della ditta Dallara fatte dall'ingegner Angelica Dallara, rappresentanti di Speedway. È stata poi la volta dell'intervento dell'ingegner Dallara che, di fronte a una perplessa nipote traduttrice, ha detto che così come è stato bello che i giovani di Speedway abbiano imparato a cucinare i tipici piatti italiani nella baita degli alpini, sarebbe altrettanto bello che i nostri italiani quando andranno a Speedway possano imparare l'arte dell'arbeque. Da Peter, uno dei rappresentanti di Speedway, che l'ingegner Giampaolo Dallara garantisce essere un cuoco fantastico. I ragazzi sono partiti per Roma per terminare la loro vacanza con un breve assaggio di vacanze romane.